ciao a tutti carissimi bentrovati anche stasera per il nostro appuntamento nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen dal libro dei numeri oracolo di chi ode le parole di dio e conosce la scienza dell'altissimo di chi vede la visione dell'onnipotente cade e gli è tolto il velo dagli occhi io lo vedo ma non ora io lo contemplo ma non da vicino una stella spunta da giacobbe e uno scettro sorge da israele questo brano dei numeri che nell'antico testamento ci dà già delle pennellate delle immagini bellissime di quello che avverrà nel natale del signore addirittura parla di una stella che spunta da giacobbe giacobbe si intende il popolo di israele il regno di israele un altro modo per chiamare quella zona del mondo uno scettro cioè una persona che governerà il nostro popolo sorgerà da israele una profezia che parla di eventi lontani ma che si incomincia a preparare già giorno per giorno si incominciano a preparare già questi eventi giorno per giorno le grandi sfide anche nostre il nostro darci degli obiettivi dei sogni da realizzare sia voi bambini o ragazzi come noi adulti sono importanti ci tengono desti ma per realizzarli dobbiamo anche vivere bene il singolo giorno che passa i sogni si realizzano da soli così il messaggio dei magi siamo partiti da lontano ormai da qualche giorno ci ha mossi una speranza un desiderio abbiamo lasciato i nostri regni le nostre comodità forse abbiamo rischiato anche troppo adesso stiamo cercando segni che orientino il cammino che ci indichino dove andare da lontano vediamo una stella sembra la promessa di qualcosa di nuovo che da qualche parte nel mondo può cambiare le nostre vite alziamoci guardiamoci intorno contempliamo in preghiera il viaggio comincia preghiamo insieme come i magi vogliamo metterci in viaggio per trovare il senso della vita ed imparare ad amare per questo ti preghiamo insieme mostraci signore il cammino che ci conduce verso di te la nostra vita è piena di indicazioni segnali mappe di orientamento sono così tante che rischiamo di perderci insieme mostraci signore il cammino che ci conduce verso di te tu sei la luce che illumina il buio che incontriamo nella vita le paure le incomprensioni le tristezze insieme mostraci signore il cammino che ci conduce verso di te il nostro impegno continua a preparare la tua carta regalo colorando il mandala con l'arancione l'impegno di oggi vi invito anche a costruire alla svelta il presepio prima del tempo quest'anno fatelo presto fatelo subito per poter usare i nostri tre magi le statuette dei magi e in cammino siccome loro stessi ci stanno accompagnando da lontano anche nei luoghi della nostra casa li mettiamo in cammino magari un pezzettino al giorno li avviciniamo sempre di più alla grotta di betlemme vi do un grande saluto ci vediamo domani sera ciao a tutti vi do la benedizione il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre figlio e spirito santo amen a domani